Io tutti i giorni sento notizie dall'Italia, soprattutto dai mezzi di informazione, da molti canali anche YouTube e Telegram, che in un certo senso vogliono creare caldo nel nostro paese per scoraggiare il turismo in un certo senso. Da qua sento notizie, io parlo anche con l'Italia, sento notizie di alte temperature, 38, 39, 40 gradi, ma guardate che io sono una settimana, 10 giorni che sono in Romania, quindi vi posso assicurare che è caldo anche qua in questo momento, che sono le 17, si registrano 36 gradi, 36 gradi è l'ombra, quindi non credo che ce l'ha. Non credo che possano cambiare artificiosamente le temperature come vogliono loro. Sono delle fasi estive che si ripetono un po' tutti gli anni, alcuni anni di più, alcuni anni di meno. Noi siamo molto vicini al continente africano, quindi siamo più esposti di altri paesi, ma la Romania, essendo lontana dal continente africano, registra comunque delle temperature molto alte. ha registrato 10 giorni fa, 15 giorni fa delle temperature anche più alte, arrivando a punte di 40, 41, 42 gradi. Io ve lo ripeto, non dovete farvi allarmare da certi personaggi che cercano di farci stare sempre sulla lama del coltello, che cercano di farci stare sempre, costantemente, nella paura che possa succedere chissà che cosa. I poteri globalisti, se potessero naturalmente, scatenerebbero le loro azioni anche climatiche contro qualcuno, in special modo contro l'Italia, ma non possono. Possono solamente cambiare il clima a livello locale, ma a livello globale, io ve lo ripeto, non lo possono fare. Non lo possono fare perché le grandi perturbazioni non possono essere veicolate o in qualche modo, come posso dire, magari le perturbazioni non possono essere distrutte, si possono provocare dei temporali locali, o si possono creare degli aumenti temporanei delle temperature, ma solamente a livello locale. A livello globale non possono assolutamente farlo, quindi non date retta a tutti quei mezzi di informazione che vorrebbero farvi stare, lo ripeto, costantemente nella paura. L'estate è così, l'estate è calda, i mesi di luglio e agosto sono fra i più caldi dell'anno, e quindi prendiamola così, fra 15 giorni, magari a fine agosto, tutto cambierà. Anzi, da domenica è previsto una discesa delle temperature, sono previste anche delle piogge, quindi tutto è normale. Ragazzi, prendiamoci gli eventi per come vengono, viviamo tranquillamente. Non facciamoci impaurire o influenzare da certi personaggi che non fanno altro che prendere, diciamoci la verità, prendere dei soldi per farci stare costantemente nell'angoscia. Grazie. 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 Grazie.